Bentornati, bentornati sul canale, siamo qui anche nel giorno della festività di Pasqua, quindi vi faccio miglior auguri per questo giorno, domani, il sottoscritto lavorerà oggi e domani, peraltro domani è anche giorno di gara, quindi c'è qualcuno che in questo paese deve lavorare anche mentre voi uziate, vingozzate, scherzi a parte, auguri chiaramente a tutti, auguri a tutti tranne, scherzo, auguri anche a Rafa e Leao nonostante una caduta di stile, chiamiamola così, una caduta di stile non l'unica chiaramente dei giocatori in questo mondo social, ce ne sarebbero state sicuramente anche altre in anni addietro quando magari le cose si dicevano dentro le quattro mure e non sbandiare dai quattro venti, è chiaro che c'è bisogno anche di maggior responsabilità e la caduta di stile di oggi, in realtà di ieri perché di qualche ora fa già, di Rafa Leao su X, da un certo punto di vista conferma il fatto che c'è comunque una grande superficialità in alcuni giocatori, non in tutti, in alcuni giocatori nell'affrontare temi forse considerati anche giustamente più leggeri, quindi a mo' di battuta senza doverci per forza andare a trovare il nesso polemico, è chiaro che quando ti rimballo un collega non è proprio di buon gusto, dall'altra conferma un'altra tesi, cioè che i giocatori non devono essere gli simpi, non devono essere quelli che hanno più responsabilità di altri perché sono in vista, no, la responsabilità dell'educazione ce l'hanno le famiglie, ce l'hanno le istituzioni di istruzione, per il resto non possono essere e non devono essere fonti né di ispirazione, almeno a livello obbligatorio né di esempi da seguire. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al post ripostato da Leao, scritto quindi da un altro utente, e lui ha messo l'emoticon con i due occhi, come a dire, a scrutare, come a dire, guardate qua, da una parte l'ammunizione ricevuta ieri da Tomori che nel finale di gara allontana il pallone, ma Tomori in stile Bremer è uno che negli ultimi cinque minuti allontana la palla, protesta, parla con i compagni per far perdere tempo, ogni volta gli prendono i crampi, e quel tipo lì lo fanno in taglio, lo hanno fatto anche in gioco dell'Inter, non ne faccio un discorso di squadra. E lui allontana la palla e viene ammonito la maresca, che come normalmente è il cartellino facile, magari altri evitano, allontana la palla su una rimessa al fondo, peraltro per il Milano, lui la tira sui tabelloni e poi va in bandierina e il pallone maresca lo ammonisce, e messa a paragone con una protesta di Barella che scalcia via la palla per stizza, in quello ormai famigilato Interverona, e non viene ammonito per protesta, per allontanamento del pallone. La di Tascalia è una roba del genere, qui sì, qui no, e lui la ricondivide, quindi avallandone il significato con gli occhi che guardano, e dice guardate qui la differenza. Le ha. O parli chiaro, o te stai zitto. Non sei un bimbo minchia, non sei un troll, non sei un profilo, non sei Ciccio Ciccio 87 o Farfallina Bellina 92, sei un giocatore profilistico di sinistra del Milan, che cosa vuoi dire? Che l'Inter è favorita dagli arbitri perché non viene ammonito Barella in Interverona del 6 gennaio? Quando Barella su 5 ammunizioni prese, 4 l'ha prese per protesta quest'anno, di cui quella col Nauli in Supercoppa, quella a Torino col Torino, e quella a Genova col Genova inesistenti? Cioè, perché poi allora arbitri diversi non dovrebbe essere così, ma lo sappiamo, lo so io, ma Giorgio lo sa lui, sicuramente lo sa che ci gioca nel calcio di oggi, arbitri diversi, gestioni diverse. Io ricordo Ibrahimović all'epoca dell'Inter, espulso per il doppio giallo da Rocchi, per aver allontanato la palla a fine primo tempo, con l'Inter in vantaggio, con il fischio e il tiro, col fischio finale di primo tempo, anzi di fuorigioco non ricordo, comunque era la fine primo tempo, col fischio di Rocchi e il tiro di Ibrahimović in contemporanea, Ibrahimović viene ammonito per la seconda volta, l'Inter si fa tutto il secondo tempo a Roma con la Lazio, in inferiorità numerica, poi segnerà Materazzi il 2-0 nel finale, ma questa è un'altra storia, o lo stesso Ibrahimović viene espulso a Parma, sempre per la stessa cosa di aver allontanato il pallone, quindi voglio dire, non è che tutti gli arbitri sono lì a ammonire chi perde tempo, perché sarebbero da ammonire, ovviamente 50 giocatori a partita, però allora dillo, l'Inter quest'anno è stata favorita di Marotta League, oh bravo Leao, di Marotta League e siamo tutti felici, invece sta roba qui, figura ancora peggiore di quella che avrebbe fatto, qualora avesse detto la sua in maniera proprio limpida, l'Inter quest'anno viene favorita dagli arbitri, il distacco con l'Inter è tutto a favore, è tutto derivante dalla gestione arbitrale, altrimenti il Milan sarebbe campionita, avrebbe fatto più bella figura, e invece così scade veramente in un livello infimo, in un livello che non si addice al valore del giocatore, che non sarà quello descritto e magnificato qui in Italia, però sicuramente non stiamo parlando di uno scarpone, e invece questo è un livello scarpone, questo è il livello scarpone. Per restare a questo livello hanno parlato anche Balotelli e Nengolan, nella trasmissione contro calcio, sempre sul web, e hanno affrontato tra gli altri discorsi anche il tema caso acerbi, Nengolan si è soffermato soprattutto a parlare della credibilità di Joan Jesus, lui ci ha giocato insieme, lo conosce, è un ragazzo sempre molto preciso, quindi non credo abbia inventato questo insulto ricevuto, anche per come l'ha raccontata, insomma comunque ha raccontato quasi difendendo pura acerbi all'arbitro, dicendo comunque già si è scusato, poi ha cambiato versione, più che è cambiato poi ha diciamo cesellato la versione sui social chiaramente, anche qui sta roba dei social che è stufa, e poi però ha detto pure Nengolan, certo poi quello che è successo a acerbi tra gli insulti, le accuse, le robe social, i suoi figli, la moglie, quello fa schifo, quindi diciamo che si è tenuto in una linea di galleggiamento molto politically correct, cioè dando credito a Joan Jesus ma senza diciamo andare a fondo, e invece Balotelli, forse a me l'avrebbe preso a cazzotti, non ci avrei visto, fondamentalmente ha detto, a acerbi poi ha detto, ma quindi è possibile che con 20.000 telecamere che ci catturano ogni secondo, ogni millesimo audio, video, di tutto, possibile che non siano riusciti a trovare proprio il labiale dell'insulto di acerbi, dando quindi per scontato che questo insulto razzista ci sia stato, e allora la domanda, quindi è stato protetto acerbi, cioè c'è una sorta di complottone per proteggere acerbi, e lui ha detto sì, secondo me sì. Buona Vascua, un saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.